Sendenza che si aspettava o alla fine l'ha presa di sorpresa? No, io l'ho sempre detto che vi era questo problema relativo al mancato ritrovamento di plichi che sono stati trafugati, non sappiamo da chi, quindi non parliamo più di brogli elettorali così come era stato impostato il ricorso, ma parliamo bensì di una mancata allocazione delle schede negli scatoli giusti tant'è che nella sezione numero 5, laddove sono stati trovati i plichi, le schede sono trovate alla perfezione e così sarà sicuramente per la sezione numero 12 perché è stata messa la busta 3R delle regionali è stata messa nelle comunali, per cui molto probabilmente quella delle comunali, la busta 3C sta nello scatolo delle regionali, ma indipendentemente da tutto questo io vorrei dire e ribadire ancora una volta che queste schede al termine delle operazioni elettorali e prima dello scrutinio sono state tutte consegnate al comune ed è chiaro ed evidente che quando poi, perché il tutto poi si svolge nel corso della nottata vengono spediti questi documenti probabilmente da una parte all'altra poi non si trova qualche plico così come è successo a noi ma stiamo parlando però del, come dire, non di brogli ma di semplici inadempienze amministrative e quindi noi siamo molto fiduciosi nella giustizia voglio dire già questa sentenza che è uscita noi la rispettiamo certamente e quindi, come dire, andiamo al rinnovo in due sezioni anche se ritengo che se ne poteva fare certamente a meno Sindaco, proprio parlando di questo, Cervina si distingue sempre perché ci sono delle cose particolari anche in questo caso una particolarità si vota in due sezioni, il prefetto ancora non sa come decidere cosa decidere a riguardo al Consiglio Comunale non tanto a lei come Sindaco perché alla fine il Sindaco farà anche il semplice ordinario anche perché è il Consiglio che potrebbe essere inviciato perché ci sono delle nuove elezioni in due sezioni e qualche eletto sia da una parte che dall'altra potrebbe saltare quindi diciamo che il Consiglio sarebbe illegittimo mentre lei come Sindaco resterà al suo posto tranquillamente però in questo senso non c'è nessuna decisione lei come si spiega tutto ciò e soprattutto cosa prevede e possa decidere almeno facendo una semplice presunzione il prefetto Intanto la ringrazio per avermi dato della legittimità da Sindaco io faccio il Sindaco ma in virtù di una stragrande maggioranza del popolo di Cervinare ed è una cosa che non va dimenticata e comunque in ogni caso come dire adesso per quanto mi riguarda io dico che il giudice a mio modo di vedere ha effettuato questa sentenza della rivutazione in due sezioni proprio per lo scarto di preferenze tra un candidato e l'altro per non ledere gli interessi penso dei ricorrenti che vogliono far valere i propri diritti ed è questo che ha fatto scattare se no era un ricorso che non andava preso nemmeno in considerazione quindi è stato questo il motivo che comunque in ogni caso porterà ad una guerra delle preferenze adesso perché sia nella lista di maggioranza che di opposizione si scateneranno tutti quanti se ne poteva fare a meno Sindaco andiamo sul pratico perché amo parlare del pratico anche due mesi, due mesi e mezzo bloccheranno Cervinare e questo è il dato di fatto perché alla fine già siamo in una macchina amministrativa che ha delle grosse difficoltà perché il governo centrale, la regione non banda nulla però bloccando anche in pieno estate soprattutto perché noi viviamo molto sull'estate è vero si dirà feste contro feste però sono feste che portano, gli immigranti portano quel poco di denaro o arriva qualche turista, arriva qualche altra cosa sarà tutta una macchina bloccata forse la nota più dolente e il popolo cervinarese lo capisce questo Sì, certamente, questa è una responsabilità io l'ho detto in altre interviste è una responsabilità dei ricorrenti che quando si perde per uno scarto di voti così ampio non si fanno i ricorsi non è successo, lo si fa quando magari il risultato è in bilico parliamo di pochi voti ma in questo caso si accetta quello che è l'esito elettorale e si cerca di andare avanti anche in un momento come questo dove vi è una difficoltà oggettiva di tutti i comuni invece in questo caso si va avanti anche danneggiando il paese quasi quasi facciamo una sfilata se il commissario mi depone domani mattina che come ho sentito dire da qualcuno insomma è in atto già il commissariamento di fatto io già non sto frequentando il comune aspetto adesso nei prossimi giorni questa notifica e questo la dice lunga sul fatto che si antepongono le questioni personali agli interessi del paese ma sono convinto che questi che si sono resi come dire artefici di questa di questa soluzione cioè di questo marasma in cui hanno cacciato il paese saranno ricordati anche per il futuro ma certamente in maniera negativa molto negativa sindaco un suo pensiero su tutta la vicenda una vicenda che è onestà del vero ognuno avrà le sue ragioni non possiamo negarlo alla fine perché l'Italia è fondata sulla democrazia però alla fine Cervinara a un anno dopo dalle elezioni si ritrova in una bagarre e tra virgolette come detto prima uno dei casi pochi in Italia il pensiero di di Filuccio D'Angredi mi scuso nel dire Filuccio D'Angredi sindaco uscente sindaco riconfermato e soprattutto politico navigato Sì bisogna avere le spalle abbastanza ampie per cercare di portare avanti i problemi del paese perché qui quando si viene eletto bisogna prima fare la guerra all'interno poi con quelli che ti stanno contro poi con tutti gli altri che comunque vogliono aspirare basta dirvi una cosa ad esempio ieri mentre tutti gli altri sindaci festeggiavano è giusto mi ha fatto piacere ho fatto i complimenti ai sindaci della Valle Caudina da noi un'associazione con un comunicato gravissimo ha fatto il bilancio a fare i revisori dei conti un bilancio attività amministrativa zero io non so da dove hanno preso questi numeri o se sanno le attività che svolgiamo e comunque in ogni caso ci caratterizzano sempre per questioni negative perché poi chi legge mentre i sindaci gioiscono nei loro paesi qua non si fa altro che massacrarlo il paese non essendo a conoscenza di quello che si fa e non so nemmeno se c'è come dire la competenza per poterlo giudicare certamente se vuoi sapere il mio pensiero non c'è la competenza chiudiamo con una domanda che riguarda la città caudina perché anche su questo i tanti quotidiani i tanti giornali i tanti emittenti hanno fatto una sorta di querello qualora lei dovesse essere sospeso la città caudina dovrebbe avere un suo successore protempore o alla fine sarà sempre lei a reggere la città caudina come presidente guardi il fatto di reggere una città caudina che al momento io ne sono il presidente spero come dire se arriva il provvedimento spero di lasciare pure quest'altro incarico perché è gravoso sento dire da molte parti pure in delle interviste perché qua quello che si fa va tutto come dire alle ortiche si dice no va bene la città caudina che langue io voglio dire che la città caudina con questi miei pochi mesi di partenza ha realizzato già delle cose che non che non erano state realizzate abbiamo realizzato diciamo il concorso del logo il concorso delle borse di studio abbiamo realizzato il sito abbiamo diciamo organizzato l'ufficio di piano abbiamo nominato delle persone che stanno predisponendo i progetti di aria vasta che dovranno essere consegnate sono già al lavoro per cui pure quando si fanno delle interviste a volte come dire l'erba del vicino è sempre più verde e generalmente può darsi pure che è più secco a presto a presto Grazie a tutti